Ed eccoci qui in un nuovo video ragazzi, un nuovo video perché c'è stato un altro infortunio in lusso in Serie A ieri sera, si è infortunato infatti Muriel con la Dea durante la partita di Coppa. Ora, l'infortunio di Muriel è uno stiramento al flessore, da quanto ho letto poi vai a sapere, sembra che possa star fuori intorno alle tre settimane, forse qualcosina in più, forse qualcosina in meno. Cosa fare con Muriel fantacalcio? Io personalmente se ce l'avessi lo otterrei, se io non ce l'avessi proverei a prenderlo perché comunque in questo istante lo paghi molto poco, sai che ti torna di fatto a Metamart forse poco prima per cui lo paghi poco ed è l'attaccante titolare e rigorista della Dea. Occhio che con l'infortunio di Muriel prenderà posto Bogat, Bogat avrà del minutaggio in più che prima proprio non era per niente scontata questa cosa, quindi Bogat diventa interessante. Fammi sapere che ne pensi un momento qui sotto, iscriviti al canale, c'è chi mi ci sia in TikTok, fantacoltatino basso fantacalcio, buon fanta!